Prima di fare un salto, devi dare un'occhiata e farti un'idea su come vuoi eseguirlo. Meglio ancora se prima ci passi sopra senza saltare. Anche nei salti, il timing delle braccia e delle gambe è decisivo. Nella partenza visualizzi l'angolo del salto per poterti alzare nel momento giusto. Arrivi sul salto stanno in piedi. Le tue ginocchia e i gomiti sono leggermente piegati. All'angolo del salto, tieni il manubrio come nel banihop. Durante la fase di volo, l'ideale è che le ruote siano circa la stessa altezza. Guarda l'atteraggio e spingi lentamente le ruote nella direzione dell'atteraggio. Per atterrare in maniera leggera, ammortizza l'atteraggio al suolo piegando le braccia e le gambe. E' importante azzeccare l'atterraggio. Se atterri troppo presto o troppo tardi, nel prossimo salto cerca di modificare e affinare la tua tecnica d'atterraggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.